E' arrivato il momento di svappare, svappo web! Ringraziamo quindi l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di metterla in scena, l'azione cattolica Santa Tudore che ci ha dato una mano e allo stesso tempo voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno creduto in pochissimo tempo di poter credere e supportarmi nel portare avanti questo progetto di fare faccia a pezzi il teatro che è la commedia che metteremo in scena domani alle 20.30 e la scelta è ricaduta su questa commedia. Soprattutto perché il tempo era poco e quindi volevamo con pochi personaggi portare in scena quanti più pezzi di commedia possibile e dare anche l'idea dell'improvvisazione che poi è la stessa idea che è venuta a Salem nel portarlo in scena.